Direi che va bene, l'adesione da parte dei colleghi è molto buona, direi che è sovrapponibile a quella che c'è tra i medici dipendenti ospedalieri, adesso si tratta di allargare la platea dei colleghi da vaccinare non solo ai convenzionati degli istituti privati convenzionati, ma direi soprattutto anche a tutti i medici liberi professionisti e tra questi sottolineerei soprattutto gli odontoiatri perché come potete immaginare gli odontoiatri hanno un rischio non piccolo, anzi forse più alto di altri medici perché lavorano sulla bocca del paziente e ovviamente il paziente non può tenere la mascherina. E quindi è molto importante che si recuperi una vaccinazione per tutti i medici, tutti i medici che lavorano. Su questo abbiamo un'interlocuzione direi abbastanza già a livello pratico con la regione Piemonte, quindi credo di poter dire che qui non avremo dei problemi. Un altro aspetto però è il numero necessario di personale vaccinatore, cioè quelli che vaccinano gli altri. Questo per adesso non ha rappresentato un problema perché queste vaccinazioni sono state condotte principalmente con dei numeri tutto sommato non alti per il personale sanitario e per l'RSA e quindi con infermieri e medici vaccinatori presenti già in quelle strutture e tutto diverso sarà quando si comincerà a vaccinare invece la popolazione perché in quel caso bisognerà organizzare, ovviamente anche i numeri saranno molto più alti, bisognerà organizzare un numero congruo di personale e su questo c'è qualche perplessità. Noi stiamo raccogliendo come ordini dei medici diverse proposte di adesione a fare i vaccinatori volontari da parte di nostri colleghi. La convince il piano transitorio fino al 15 gennaio con questo weekend che viene in zona arancione per tutta Italia? Ma direi che è una prudenza questa, quello che mi convince di più rispetto alla riapertura delle scuole è il progetto che ha fatto la nostra regione di scaglionare ma con continuità dei controlli con i tamponi su tutti gli studenti e di offrire a tutto il personale scolastico, quindi insegnanti, operatori eccetera, rivolgendosi al proprio medico di famiglia di poter avere un tampone. Penso che questo sia importante per governare bene la ripartenza delle scuole. Io credo che bisogna fare di tutto per fare in modo che gli studenti possano andare a scuola, di tutti gli ordini. La incoraggia l'annuncio da parte dell'assessorato dei trasporti, l'assessore regionale Gabusi, di un potenziamento del trasporto pubblico? Eh beh certo, sì, questo è un grosso problema perché in realtà la questione del contagio tra i giovani che vanno a scuola o i bambini non è tanto legato all'ambiente scolastico quanto a tutto quello che ci sta intorno e uno dei punti più importanti è proprio il trasporto. Il trasporto, poi ovviamente i ragazzi stanno insieme, chiacchierano, quindi ci sono questi altri aspetti, però il trasporto è verosimilmente un punto importante per ridurre il contagio.